musica 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 bene ragazzi bentornati in questo episodio sfortunatamente come primo episodio eh di questi skywars perchè avevo lasciato il canale a causa del fatto che quando si intime con la 7 è una cosa totalmente impossibile registrare e caricare i video registrare ancora ancora ma caricarli ci si stavano sulle notti quindi adesso mi è arrivata la fibra ottica stiamo migliorando e con questo primo episodio ho avuto qualche piccolo problemino del fatto che oltre ai file che potrete vedere ho impostato mai il programma io uso Action Me Release per come si chiama ma non c'è la pronuncia non ve la so l'avete capito qual è? Action 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 Fiction è totalmente così benissimo quindi con questo programma io ho dimenticato di mettere la spunta perchè non so perchè me la chiedo ogni volta anche se io l'ho messo come predeterminito la spunta su registrami è un programma vabbè comunque le partite sono andate totalmente in pain nel senso che solo nell'ultima e solo facendo un bastardo ho vinto però vabbè era una vendetta perchè comunque anche prima non ho chiesto il team e sono ammazzato quindi vabbè detto questo io adesso riprenderò il canale con una serie da nulla che più o meno dovranno uscire uno o due episodi al giorno scusatemi due episodi a settimana più una serie qua su di ArenaCraft degli Skywars o comunque qualche modalità che ci sono sugli Skywars se vorrete potrei fare anche una serie comunque tenete conto che comunque mettendo più serie sono meno serie nel senso meno episodi scusate nel senso che io comunque posso fare un massimo due episodi a settimana per il momento più che altro anche vabbè sia per scuola sia comunque perchè io registro con PC portatile e diciamo che non è il super PC portatile ha qualche bell'annetto quindi comunque ancora registrare ma renderizzare mi ci mette un bot comunque ok e niente di particolare fatemi sapere quindi se volete quale serie volete cioè se volete una cioè se vi va bene che faccio la serie vaniglia se vi va bene che faccio le le ecco questo qui è il momento ragazzi dove il team ha ammazzato ha fatto un lestardo vedete verso la fine dove mi le dico e niente adesso io vi lascio il video poi fatemi sapere ancora per la terza volta ma non per la terza volta vi chiedo di lasciarmi like e di iscrivermi nei commenti se vi vanno bene la serie fatemi sentire che ci siete ancora che non avete appallenato il mio gatto sta puntando l'armadio se vuole risalire cosa vuoi picco ok niente mi ha messo il like al canale iscrivetevi al canale e vi lascio appunto questo il magico fail cio 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 il mese si si niente non non ma il cio 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 il si il Grazie a tutti 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 Grazie a tutti